Il Signor Rogers Sono un analista investigativo, non faccio sviolinate. 400 parole, fa un bel lavoro. Signor Rogers, sono qui per intervistarla. È davvero un piacere conoscerla. L'articolo è per un pezzo sugli eroi. Lei si considera un eroe? Niente affatto. Ah, che amore! Ho insistito che leggessi i tuoi pezzi prima dell'intervista. E lo ha fatto? Ogni articolo che abbiamo trovato. Stai bene? Sto tracciando il profilo di Fred Rogers. Nel nostro programma cerco di guardare attraverso la telecamera negli occhi di ogni bambino. È la persona più gentile che abbia mai conosciuto. Ma non so se è sincero. Lloyd, ti prego. Non rovinarmi l'infanzia. Tanta gente fa la fila per raccontarle i suoi problemi. Deve essere un enorme peso per lei. A volte dobbiamo tutti chiedere aiuto. E va bene così. Lei ama le persone spezzate dentro come me. Lei non è spezzato dentro. Dobbiamo dire alle persone che ognuna di loro è preziosa. Registriamo. Daniel, sei pronto? Sono pronto! Grazie, Daniel. Ma stava parlando col pupazzo. Per favore, zitto. Grazie a tutti.